Donna Rumma sono dieci lettere, una in più di Pepe Motta messi insieme, sai chi erano? Sì, ho letto nei giornali in questi giorni di Pepe Motta che hanno fatto molto bene a Teramo. Sono contento che comunque fanno questi paragoni perché comunque quando ci sono annate importanti è giusto ricordarle. Essere accostato insieme alla Padula ad una coppia del gol importante che ha fatto la storia del Teramo, cosa significa per te? No, come ho detto è una soddisfazione perché significa che si sta facendo qualcosa di importante sperando di continuare così e di rimanere nel cuore della gente di Teramo. Dile la verità, lì davanti, il fenomeno chi è? Donna Rumma o la Padula? No, non c'è nessun fenomeno, c'è due giocatori che hanno tanta voglia di fare bene e di arrivare più in alto possibile. Lo stiamo facendo e speriamo di continuare così fino alla fine. Come si vince il derby all'Aquila? Con un gol di Donna Rumma, uno di la Padula o con il collettivo? No, noi dobbiamo andare all'Aquila come tutte le partite, dobbiamo andare da squadra sapendo che se noi riusciamo a giocare da squadra possiamo fare risultato. L'Aquila non ci dimentichiamo che all'andata è rinata da noi e da lì ha fatto una serie di partite di tante vintorie, quindi noi sappiamo che andiamo lì, sappiamo di trovare una squadra molto arrabbiata e noi dovremmo esserlo più di loro. Quindi avete già un precedente, bisogna stare attenti? Eh sì, sicuramente, comunque abbiamo perso l'andata e non vogliamo fare lo stesso errore, vogliamo andare lì e fare la nostra partita. Dile la verità, Vivarini avete detto mai, mister, ma senza noi due dove andate? No, vabbè, il mister ci mette a noi nelle condizioni di fare bene, ma la squadra ci mette a noi nelle condizioni di fare bene. Quindi qua siamo tutti importanti e quindi dobbiamo essere sempre un gruppo come lo siamo e durare fino alla fine più che si può. Ti sei dato un obiettivo, cioè chiudere la stagione con 20 gol almeno? No, vabbè, io sono uno che guarda partita in partita, spero di fare il possibile già sabato e farlo da qui fino alla fine. Domenica? Eh, voi ti diceva, domenica, perché giochiamo sempre di sabato.